E' grave che non si sappia, è grave proprio perché di questo discutiamo tutti i giorni, perché ci sono dietro dei problemi etici fondamentali e anche, diciamoci la verità, perché c'è dietro una questione di salute e di progresso, il fatto che che percentuale è che viene buttata? 97% dei colori venga buttata. Capite che è una cosa che fa tremare e la gente non lo sa. Di qui la necessità probabilmente di introdurre la cultura scientifica relativa alle staminali e alle biotecnologie, non farci rimanere il fanalino di coda nell'innovazione in Europa, ma arrivare a una popolazione, io non dico che tutti sappiano, ma insomma più consapevole di così. E' nell'interesse della nostra nazione che sia così.